Offro un procida, una delle isole flegrei del Golfo di Napoli che pensate, in quest'anno è stata nominata capitale della cultura italiana. Ma cosa ci farò qui? Sperimenterò la nuova frontiera del turismo per chi ama vivere una nuova dimensione del viaggio. A pieno contatto con la natura per scoprire il piacere delle piccole cose senza rinunciare al lusso. Ciao Andrea, è un esperto di glamping. Chi meglio di te può spiegarmi cosa consiste? Sì, Bianca, il glamping è una parola che deriva da due termini anglosassoni glamour e camping. Offre una nuova idea di campeggio dove il cliente non rinuncia al lusso e alla natura. E quali sono i comfort che ha rispetto a un camping tradizionale? Beh, sicuramente rispetto ad un camping tradizionale gli alloggi che puoi trovare in un glamping hanno dei comfort diversi, dei servizi diversi che derivano dai servizi alberghieri. Ogni alloggio ha un'aria condizionata ne abbiamo bisogno oggi perché fa un caldo bestiale. E poi? Poi hai uno spazio privato dove puoi leggere un libro all'ombra di un albero puoi trovare una piscina dove puoi sorseggiare un drink. fantastico, senti però Andrea io mi sono portata il pranzo al sacco, eh, perché vedi... Beh hai fatto male perché qui abbiamo anche il ristorante. Eh ma vedi, è matchy-matchy con il mio vestito verde. È matchy col vestito ma... E ci abbiamo un ristorante. Ma ti consiglio di andare al ristorante. Fantastico. Cosa vuoi ordinare? Un'insalatina dai, ci teniamo leggeri. Grazie. Quest'anno Procida, capitale della cultura, sta attirando da ogni parte del mondo turisti e molti sono contenti di venire in strutture come il glamping per vivere appunto un'esperienza unica. Fantastica. Fantastica a contatto con la natura. Per vivere al meglio la Procida, certo. Evviva Procida! Andrea, purtroppo per me è l'ora di andare. Bianca, mi dispiace moltissimo, ma ho preparato un'auto verde come te, perfetta per il tuo outfit. Ma che spettacolo! Andiamo. Dai, verde come me. Andiamo. Camped!